Ohi ragazzi, ma lo sapete vero che la storia di quest'anno è eseguita dagli ultimi due anni? E lo sapete che la storia di quest'anno sarà collegata agli anni precedenti? Beh! Come dicevo, alla fine tutto si collegherà nel mezzo delle avventure che ci coinvolgeranno quest'anno. Tutto inizierà quando una ricca orfana deciderà di invitare due amiche a casa sua per la sua diciottesima festa di compleanno. Durante la festa succederà però una cosa inaspettata. Si darà il via alle indagini. Chi è stato? Chi è colpevole? Chi diamine è stato? Chi? Come si collegherà tutto? Come potremo giungere ad una conclusione? Come risponderemo alle nostre domande? Per ora niente spoiler. Sapremo tutto a suo tempo. Quando? Beh, a giugno. Nessuna vita è più importante di un'altra e nulla accade senza uno scopo. Nulla. E se facessimo tutti parte di un grande disegno che solo in futuro saremmo in grado di comprendere? E un giorno, quando il nostro destino sarà compiuto, potremo andare lassù e riunirci con coloro che più abbiamo amato al mondo e restare abbracciati per sempre. classe 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 對不對 classe 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 classe